Ladri di canapa rintracciati e denunciati dai carabinieri di Cermenate. Tre giovani di 26, 28 e 30 anni sono stati accusati di furto aggravato. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma, avrebbero rubato piante di canapa regolarmente coltivate da un'azienda agricola di Bregnano. Nei giorni scorsi il proprietario della Lariohemp Farm di Bregnano ha sorpreso all'interno della sua proprietà tre persone che stavano portando via alcune piante di canapa. L'uomo ha subito denunciato quanto accaduto ai carabinieri di Cermenate che hanno avviato gli accertamenti. I carabinieri hanno rintracciato a poca distanza dall'azienda agricola l'auto utilizzata dai tre giovani nella quale avevano sistemato le piante di canapa rubate. Scoperti i tre, due comaschi e un giovane di Monza avrebbero ammesso le loro responsabilità. Sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato. I carabinieri rinnovano l'appello ai cittadini a segnalare subito qualsiasi episodio sospetto o possibile reato. Grazie a tutti.